Sono molto contento di essere anche quest'anno a Torino Spiritualità. Sono fedele a questa straordinaria iniziativa, certamente tra le più importanti iniziative culturali di questa città di Torino, nella quale attualmente abito, d'altronde è sempre stata un po' la mia città, perché è stata la città della mia giovinezza e sono tornato in questa anzianità, scegliendo Torino con molta gioia per la rete di amicizia, per la rete di tante conoscenze e per le tante opportunità di relazioni e incontri che questa città offre. Ringrazio per l'invito la cara Elena Lewental, che conosco da tanti anni e di cui sono contento di essere amico. Ringrazio Bonaiuto, che costantemente tiene vive i contatti con me e anima questa Torino Spiritualità. E vi dico grazie per l'ascolto che farete a questa mia relazione che vuole essere semplicemente un insieme di tracce da offrirvi perché possiate meditare, confrontarvi con questo tema del desiderio. Un tema estesissimo che indubbiamente incrocia molte discipline e che io però affronto soprattutto all'interno della tradizione della spiritualità cristiana. Il titolo che è stato dato a questa mia conversazione è un versetto che è presente nel libro del Siracide, un libro che non fa parte della Bibbia ebraica, fa parte della Bibbia cristiana e tuttavia è un libro scritto in ebraico. È scritto, non sappiamo bene, ma nell'epoca attorno al 50 avanti Cristo o addirittura nei giorni in cui Gesù di Nazareth, che segna il calendario occidentale, era già nato. Tuttavia è un libro che raccoglie la sapienza di Israele. È un libro ispirato dal libro dei Proverbi, ispirato da Coelet. In questo libro sta scritto «Non privarti di un giorno felice, non ti sfugga nulla di un legittimo desiderio». La traduzione ve l'ho fatta dal testo ebraico, perché nelle Bibbie cristiane normalmente la traduzione è fatta dal testo greco ed è un po' diversa. Certamente mette in evidenza che ci sono dei legittimi desideri di cui non bisogna privarsi. E nel parallelo di questo versetto, di conseguenza, non bisogna privarsi dei giorni della vita felice, della vita piena di beatitudine. Cerchiamo di addentrarci. Desiderare è una voce che proviene dal lessico astronomico e il suo significato è stare lontano dalle stelle. De, venire, stare, da e sidera sono le stelle. Chi sta lontano dalle stelle le ricerca, le vuole vedere e quindi le desidera. Noi umani che siamo sotto il cielo viviamo di desiderio, ci protendiamo verso le stelle le stelle. E ci colliamo innanzitutto come esseri desideranti. D'altronde tutti noi facciamo l'esperienza del desiderio, un sentimento che ci abita come una pulsione, come una tensione, come una forza. Il desiderio è certamente un sentimento personale, intimo, che scaturisce dal profondo di un uomo o di una donna, che però non sono mai padroni assoluti del proprio desiderio. In ciascuno di noi non è il mio io a desiderare, ma è il desiderio che desidera con forza al di là del nostro io. Noi siamo abitati dal desiderio. Addirittura siamo posseduti dal desiderio. E questa esperienza ci fa dire che il desiderio ci può dominare, ci può alienare, ci può trascinare via. Ecco perché noi dobbiamo coglierci come desideranti. e che cosa c'è alla radice di tutti i desideri umani? C'è la condizione umana, l'indigenza, la condizione del bisogno, la mancanza di vita piena, la limitatezza. E ogni volta dunque che noi cerchiamo di andare oltre la nostra condizione, di trascenderla, noi desideriamo. Ecco perché i desideri sono veramente molteplici, differenti, infiniti. Resta profondamente veritiero nell'esperienza del desiderio il dover operare un discernimento e operarlo proprio al sorgere del desiderio. Perché il desiderio è un sentimento complesso, polifonico, nel senso che contiene molte voci. Può essere desiderio di cose buone. E dunque desiderare la bontà, ma può anche essere desiderio di cose cattive. Non a caso. Noi classifichiamo i desideri in desideri buoni, che poi diciamo anche legittimi secondo l'etica che abbiamo, e desideri malvagi, desideri che ci portano al male o che hanno come frutto il male. La parola desiderio non è sempre positiva. Il desiderio può diventare bramosia, può diventare voracità, può diventare, nel linguaggio della tradizione cristiana, addirittura può diventare concupiscenza. E attenzione, nelle tradizioni religiose, va detto con chiarezza, il desiderio è stato sempre piuttosto visto negativamente. Non voglio adesso farvi una carrellata all'interno della filosofia e delle tradizioni religiose, ma qualcosa va ricordato anche perché il desiderio come noi lo pensiamo oggi è certamente debitore di tutta una ricerca e una cultura che sta alle nostre spalle. Nel mondo greco, gli stoici condannavano il desiderio. Epiteto dice che occorre assolutamente estinguere i desideri per essere veramente uomini. E anche la scuola epicurea in realtà condannava i desideri. Anzi, ha aperto addirittura la strada mettendo come via virtuosa la tarassia, l'insensibilità, l'indifferenza. Ve lo dico perché questa posizione nella filosofia greca è passata poi a ispirare una spiritualità cristiana, in modo direi determinante nel quarto e nel quinto secolo, ma poi in tutta la storia della spiritualità, fino a Sant'Ignazzo di Loyola, in cui si loda soprattutto la santa indifferenza verso tutte le cose, non le si desiderano le cose, si è indifferenti rispetto a ciò che ci capita e ciò che si vive. In certi correnti spirituali è presente ancora, io oso dire, questo veleno dell'indifferenza, della tarassia, dello spegnimento dei desideri. Questo ha segnato una spiritualità cristiana molte volte negative verso questo mondo, a favore dell'aldilà, verso lo spirituale, contro ogni materialità, in una negazione della carne. Ancora oggi nel linguaggio cristiano la carne, non riusciamo a dire questo termine se non sotto l'aspetto negativo, come se fosse la causa del peccato, dimenticando come la linfa vitale, lo vedremo, all'interno soprattutto del Nuovo Testamento, pone la carne come il luogo in cui Dio ha voluto abitare, la carne ciò che Dio ha voluto diventare, la carne che non è quella specie di abito o di strumenti necessari all'incarnazione che come sono stati presi da Gesù di Nazareth sono stati smessi velocemente in vista di una vita spirituale divina. Questo è anticristianesimo e negazione della verità più profonda della spiritualità cristiana, la quale esalta la carne, esalta i sensi. Però dobbiamo anche ammettere che nella storia della spiritualità ci sono anche questi sentieri negativi. D'altronde lo sapete. Nella tavola delle dieci parole date da Dio a Mosè è significativo che due volte ricorre il verbo desiderare ma in modo negativo. due comandamenti su dieci non desidererai la donna di altri il nono, la nona parola non desidererai la roba degli altri In Esodo 20 e in Deuteronomio 5 le dieci parole date da Dio a Mosè contengono questo divieto del desiderare il che, attenzione, non negano che ci siano dei desideri legittimi però è significativo che due comandamenti su dieci dicano attenzione al desiderio questo desiderio va estirpato alla radice va assolutamente annientato il verbo ebraico Hamad usato qui desiderare non rimanda a una sollecitazione superficiale un vago desiderio ma un desiderio a cui aderisce la volontà un desiderio che si trasforma in azione una brama efficace ecco allora il giudizio negativo per questo desiderio che è una pulsione che procede dal cuore dell'uomo viene commentato nel Nuovo Testamento da Giacomo ciascuno è tentato dal proprio desiderio che lo attrae e lo seduce il desiderio poi concepisce e genera il delitto e il delitto una volta commesso genera la morte è una dinamica molto fine se siete stati attenti ciascuno è tentato dal proprio desiderio notate il linguaggio che è il linguaggio tipico dell'amore della sessualità questo desiderio lo attrae lo seduce questo desiderio finisce per chiedere un accoppiamento in cui si concepisce il delitto e il delitto genera la morte dunque guerra ai desideri perversi lotta spirituale o combattimento spirituale tema sul quale hanno molto indugiato i padri del deserto gli asceti cristiani definendo il desiderio cattivo come la matrice la fonte di tutti i vizi e tutta però la tradizione biblica testimonia che ci sono desideri legittimi desideri buoni che anzi dove c'è il desiderio c'è la vita e che il desiderio è proprio il segno che la vita pulsa che si vuole vivere d'altronde anche le scienze umane non sta a me fare questo itinerario oggi ma testimoniano innanzitutto che proprio a partire dal bambino ancora nel grembo della madre c'è questa pulsione questo desiderio di vita che poi continua c'è il desiderio di vita e questo desiderio di vita è quello che ci fa vivere ci fa crescere e soprattutto poco a poco si trasforma in un desiderio lo vedremo poi meglio il desiderio dei desideri che è il desiderio dell'amore il desiderio di amare e il desiderio di essere amati c'è all'interno del salterio al salmo 32 una domanda c'è un uomo che desidera la vita e desidera fortemente giorni per gustare il bene e a questa domanda certo rispondono se volete tutti i libri biblici proponendo delle vie indicate da Dio per ottenere vita e felicità ecco il desiderio di vita che d'altronde è l'unica vocazione degli umani vivere e vivere quest'unica vita che ci è data perché non ce n'è un'altra questo dovrebbe essere qualcosa che teniamo sempre presente e invece noi non sempre riusciamo a tenere davanti a noi questa verità di vita ce n'è una sola ricordatevi non ce n'è nessun'altra e la vita che stiamo vivendo qui in questo momento ha avuto un inizio e avrà una fine e questa vita è la vera vocazione per noi umani uomini e donne anche quando sembra che noi vogliamo negare la vita noi in realtà vogliamo vivere ha ragione quelli che dicono che anche nel suicidio in fondo c'è una volontà di vita di vivere meglio di vivere un'altra vita perché si sente magari che la tua vita è insopportabile ma è un desiderio di vita non a caso è presente tutto un linguaggio metaforico in tutte le scritture in cui si parla di desiderio come sete desiderio come fame e la gamma dei desideri è infinita dei desideri buoni dal desiderio di Dio che è testimoniato con molta frequenza soprattutto all'interno dei salmi vi cito solo due versetti che molti di voi conoscono come una cerva anela a fonte di acque così la mia anima desidera a te mio Dio oppure l'altro salmo io ho desiderio del Dio vivente quando vedrò il suo volto desiderio di Dio si può desiderare Dio dobbiamo porci questa domanda Dio nessuno l'ha mai visto nessuno lo potrà mai vedere ci dicono le scritture chi vede Dio muore è l'adagio sempre presente e come mai ci sono dei credenti che dicono io desidero Dio desidero vedere il suo volto e parlano di sete di fame di Dio una dimensione certamente che resta incomprensibile per molti e soprattutto oggi gli stessi credenti credo che hanno difficoltà a comprendere questa dimensione diciamo mistica perché io posso desiderare qualcuno che conosco che ho visto ma uno che non ho visto che non ha nome che è inconoscibile che nessuno ha mai visto che nessuno ha mai udito sonoramente parlare come possibile eppure la testimonianza è che c'è la possibilità di un desiderio di Dio e sotto questo segno del desiderio di Dio c'è l'amore per Dio dobbiamo subito tradurre si può desiderare Dio ma si può anche subito dire ma si può amare Dio gli ebrei che certamente hanno forgiato questo linguaggio nella Bibbia pensate anche allo Shema tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore con tutta la mente con tutte le tue forze oltre che le espressioni in questo linguaggio amoroso io amo Dio che troviamo nei salmi Signore io ti amo tuttavia dicono attenzione è un amore di desiderio ma che va costantemente verificato visto che Dio non lo si vede nel realizzare la sua volontà desidera veramente Dio ama veramente Dio colui che fa la sua volontà che realizza la volontà di Dio altrimenti questo amore che lui dichiara questo desiderio che lui sente non è autentico come vedete non è così semplice noi abbiamo l'esperienza del amore di desiderio tra persone umane fino addirittura al desiderio dell'altro a livello sessuale con Dio il desiderio non ha nulla di tutto questo e il desiderio di Dio è compiere la sua volontà perfino Gesù all'interno attenzione proprio di questa comprensione diceva chi mi ama osserva le mie parole dove l'amore anche per Gesù da parte dei discepoli passa attraverso il realizzare la parola di Gesù so bene che questo discorso che vi faccio sul desiderio può turbare alcuni però se noi andiamo all'autore autenticità del desiderare biblico dobbiamo assolutamente esplorare questa pista questo cammino Dio è altro Dio è invisibile certo ho un linguaggio amoroso che posso usare anche per lui c'è addirittura un salmo che dice io desiderio del Dio vivente la mia carne lo desidera permettetemi di dire linguaggio amoroso tra amanti tra amanti umani però attenzione questo linguaggio va preso con molto discernimento e intelligenza i rabbini ammonivano attenzione non c'è amore di Dio se non c'è amore per la Torah e nel cristianesimo più autentico non c'è amore per Cristo se non si realizza il Vangelo se non si ama il Vangelo se non si realizza il suo messaggio so bene che c'è anche una corrente mistica ma lì io vi confesso tutta la mia diffidenza una corrente mistica cristiana che usa il linguaggio amoroso del desiderio addirittura sessuale nel parlare con Dio vi faccio un esempio nessuno di voi si scandalizzi ma io non riesco a leggere Giovanni della Croce e i suoi poemi come dei poemi religiosi sono bellissime liriche d'amore di amore umano bellissime ma io non riuscirei mai a usare quel linguaggio con Dio o con Gesù Cristo sentirei un orrore dentro di me altri invece percorrono quella strada molto convinti per me il desiderio vi ripeto come desiderio di Dio e desiderio per i cristiani di Cristo non è un desiderio che può essere confuso con i desideri che viviamo tra di noi la mia formazione è questa ciò che è sulla terra diche sulla terra e ciò che appartiene al cielo diche in cielo permettetevi di farvi di farvi sorridere a metà di questa conversazione ma uno dei comandamenti che io ho ricevuto e di cui ho scritto all'interno della sapienza del Monferrato sapete come suona non mescoliamo le cose quindi io non mescolerei mai l'amore umano con l'amore per Dio non userei mai lo stesso linguaggio e non sarei mai capace di usare il linguaggio amoroso che userei per una donna usandolo per Gesù Cristo e tuttavia voi sapete che c'è anche una corrente mistica in cui Gesù Cristo è lo sposo Gesù Cristo si celebrano le nozze con lui Giovanni della Croce Teresa Davila altri mistici ve lo dico per onestà ma mi sono estranei se questo è una polarità del desiderio buono legittimo nella Bibbia certamente viene subito dopo il desiderio di amore anzi oserei dire che proprio il fuoco il nucleo incandescente del desiderio come lo presenta la Bibbia è l'amore amore nella sua dinamica di amare ed essere amati è così noi portiamo dentro questo desiderio nasciamo col desiderio di essere amati e se non ci fosse l'amore di chi ci accoglie non ameremmo neanche vivere ce lo dicono le scienze umane e a un certo punto impariamo a ricambiare questo amore che ci ha accolto venendo al mondo pianin pianino amando anche noi cominciamo ad amare quelli che ci hanno accolto il padre la madre la famiglia quelli con cui soprattutto la vita diventa un tessuto e poi a un certo punto siamo ormai capaci di accogliere passivamente l'amore ma sentiamo anche la capacità di essere soggetti che amano la maturità di un ragazzo di una ragazza è una maturità soprattutto in questo nella sua capacità di amare e di accettare di essere amato non sempre una maturità raggiunta molte volte una maturità ferita e chi soprattutto è stato ferito nell'esperienza di amore passivo perché non è stato amato o è stato amato male ha difficoltà a diventare un amante un soggetto che ama e il suo desiderio di amore è un desiderio faticoso sovente contraddetto sovente paralizzato la vita di molti uomini e di molte donne è difficile a partire da questo e se voi avete ascoltato le persone lo sapete il dolore più profondo le ferite più profonde stanno a quel livello non è facile ebbene certamente a un certo punto un giovane ha bisogno di ricevere un amore diverso da quello che riceve e ha ricevuto in famiglia vuole un amore che venga da altrove e vuole amare altrove è così che iniziano le storie d'amore è così che l'uomo cerca la donna nelle prime pagine della Genesi si testimonia proprio questo la solitudine di quell'uomo creato creato da Dio non è bene che questo terrestre sia solo la creazione da quest'uomo della polarità maschio e femmina e da quel momento l'uomo cerca la donna e la donna cerca l'uomo è straordinario in Genesi 3 certamente un testo attenzione con ideologia patriarcale e una visione della donna negativa si dice alla donna verso l'uomo il maschio sarà il tuo desiderio ma lui ti sottometterà ma quando viene scritto il cantico dei cantici si dirà esattamente il contrario si dirà che l'uomo va verso la donna si sente attirato dalla donna e non ci sarà più sottomissione l'uno per l'altro in una sinfonia della differenza il desiderio l'un dell'altro e il desiderio sessuale benedetto da Dio assolutamente buono e anche lì attenzione so bene invece l'eredità come vi dicevo di quel cristianesimo che si era beverato a quella filosofia greca negativa sul corpo sulla materialità sulla sessualità per cui la storia della sessualità del cristianesimo è una storia faticosa è una storia con sguardi negativi il piacere stesso sembrava già essere peccato non sto parlando di secoli fa sto parlando che queste cose le hanno ancora vissute i nostri genitori dove la negatività della spiritualità cristiana era tale per cui il fare l'amore era una concessione e poi a che prezzo e quante poche volte si poteva fare durante l'anno osservando i tempi ascetici in cui era vietato anzi la virtù era farlo semplicemente per avere figli senza desiderio una storia di umiliazioni di situazioni vissute con vergogna non è una storia che ci fa onore per fortuna gli ultimi trent'anni hanno capovolto le cose e ormai addirittura anche l'atto sessuale è stato chiamato addirittura da Giovanni Paolo II la liturgia dei corpi e ormai la tradizione cristiana dice che la stessa unione sessuale è già un valore di per sé non ha solo significato per la procreazione ma che è innanzitutto una sinfonia una liturgia d'amore è il canto e la sublimazione dei desideri più santi che stanno nell'uomo e nella donna ma dalla sessualità passiamo alle gioie della vita anche lì certamente nell'antico testamento c'era un atteggiamento molto più positivo ricordatevi Coelet non resta all'uomo in questo duro mestiere della vita se non mangiare bere e vivere giorni felici e poi anche questo però in una spiritualità cristiana la diffidenza la sublimazione del digiuno e la condanna dei piaceri a tavola no se uno va alle sorgenti della Bibbia si rende proprio conto che la vera spiritualità cristiana è fatta davvero di cose materiali del godimento che le cose ci danno della possibilità di gratitudine che devono destare in noi addirittura della lode per la quale noi possiamo lodare Dio tutte le creature sono buone dice San Paolo tutte e il nuovo testamento insiste non c'è nessun cibo impuro non ci sono impurità da cui doversi guardare tutto è buono dice Paolo se viene assunto con libertà con spirito di ringraziamento e nella condivisione è una vera liberazione quella che vive la spiritualità cristiana da 30 40 anni forse 50 per alcuni dove il desiderio ha ripreso tutta la sua forza diventa davvero qualcosa che ci fa vivere è la vita e guardate se voi state attenti nelle vostre relazioni là dove trovate persone con desideri davvero accesi con desideri infuocati che hanno la passione certamente voi avete accanto e incontrate persone ricche in umanità e se voi invece avete persone le quali comprimono i desideri sono diffidenti verso le cose materiali in realtà sono persone umanamente povere noi dobbiamo essere molto attenti alla verità più profonda del cristianesimo e mi avvio la conclusione quando il nuovo testamento dice che Dio la parola di Dio si fece carne sarx parola greca indica la carne indica la materialità lo dice con una tale forza sapendo che il grande attentato il cristianesimo l'avrebbe avuto proprio da quanti negano la carnalità l'incarnazione di Gesù Cristo e durante tutta la storia della Chiesa il vero attentato il cristianesimo l'ha ricevuto dai doceti da quelli che dicevano che Gesù era pur apparenza che era un'apparizione spirituale Gesù invece ha avuto una vita carnale come ciascuno di noi e vi do un'immagine molto cara sulla quale ho scritto molto già ormai trent'anni fa ma che mi resta come una delle grandi acquisizioni e che credo sia una delle intuizioni più decisive nei miei scritti quando noi pensiamo a Gesù purtroppo abbiamo un'accezione della sua vita perché così è stata la tradizione recente che non è la vita Gesù la vera vita umana che ha fatto ma è una vita che per voler essere esemplare l'abbiamo spogliata di tutti i connotati umani io vorrei farvi notare velocemente ho detto ho scritto molto come la vita di Gesù fosse una vita buona bella e beata purtroppo i cristiani non hanno questa visione anzi addirittura ci sono ancora quelli che hanno una visione dolorifica ma Gesù innanzitutto ha fatto una vita buona è passato facendo del bene l'hanno chiamato significativamente Rabbi buono maestro Agazzos buono perché mostrava la bontà nell'incontrare tutti ha fatto saltare tutte le barriere non c'erano per lui persone impure non c'erano per lui degli stranieri non c'erano per lui peccatori e peccatrici uomini e donne basta questa era la sua bontà ha incontrato tutti e in tutti cercava di destare fiducia fede non chiedeva nulla nei suoi incontri non chiedeva neanche che lo seguissero quante volte nei Vangeli ha incontrato persone malati peccatori e licenziava dicendo va la tua fiducia ti ha salvato non diceva neanche io ti ho salvato la tua fiducia ti ha salvato se la chiesa imparasse un poco da questo un poco meno pretesa di salvare e mettere fiducia nelle persone ma ha fatto anche una vita bella non ha mai conosciuto la miseria e la povertà certo non ha fatto una vita ricca ma è cresciuto in una famiglia di artigiani dove non ha mai fatto la fame quando ha vissuto la comunità avevano una cassa comune con la pesca si mantenevano vendevano il pesce che la notte pescavano nel lago non era solo aveva quei discepoli alcune donne e guardate che è una bella vita non essere soli e vivere in una comunità con uomini e donne essere amato e poter amare aveva una vita in cui lui non era mica morso dalla pastorale o dal fare il predicatore aveva tempo era un poeta contemplativo sapeva guardare i gigli dei campi sapeva guardare le nubi i bambini che giocavano pensate il mondo delle sue parabole che è fatto di immagini prese dalla vita quotidiana comune ma aveva tempo di meditare aveva tempo di leggere una vita bella bella non ha fatto una vita brutta una vita bella oltre che buona e poi perché dico una vita beata perché chiunque di noi se ha una ragione per vivere fa una vita beata anche se vengono per dei tempi duri anche se vengono dei tempi in cui uno deve attraversare la crisi o il fallimento ma se ha una ragione per vivere nessuno gli può rubare la beatitudine che lui ha nel cuore voi mi direte ma è finito sulla croce sì ma la croce non ha dato gloria a Gesù è Gesù che ha trasformato la croce da strumento di supplizio in uno strumento in cui lui mostrava di saper dare la vita per amore e senza usare la violenza che si scaricava su di lui una vita bella buona e beata questo è il cristianesimo significativamente Sant'Agostino dice che Gesù era il vir desideriorum l'uomo dei desideri e dice che ogni cristiano dovrebbe essere un vir desideriorum un uomo esercitato nei desideri il contrario dell'uomo indifferente ma l'uomo che custodisce il fuoco dentro di sé significativamente Gesù ha detto una parola un giorno secondo il Vangelo di Luca sono venuto sulla terra per portare il fuoco e quanto desidero che questo fuoco bruci arda nella vulgata latina bellissimo Gerola morende desiderio desideravi ho desiderato con desiderio che questo fuoco si accenda e si espanda come vero passione di amore tra gli umani e questo è l'augurio che vi faccio non temete i desideri fatene discernimento l'intelligenza l'avete la capacità di intelligenza e di discernimento pure ma seguite i desideri profondi perché il desiderio vero è desiderio di amore è il desiderio che brucia nel cuore di tutti grazie dell'ascolto grazie grazie